mister bossati termina con una sconfitta forse troppo pesante per quanto visto in campo contro un avversario però decisamente forte verissimo l'avversario decisamente forte e quello che noi per fortuna siamo stati per un campionato intero perché quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto secondo me perché alla base questa squadra è riuscita a giocare ad allenarsi per nove mesi e mezzo più o meno ad altissima intensità con un grande concentrazione con le energie nervose sempre sparate al massimo e ci stava che è finito il campionato gli allenamenti cominciassero ad essere un po più morbidi comunque sia l'approccio alla partita era un approccio comunque diverso basta che mi ricordo le ultime due ghi vizzano in casa seravezza e quello che ho vissuto comunque rimini e vispesano oggi cioè l'approccio alla partita è un'altra cosa quindi noi siamo una squadra che se gioca su quel limite di attenzione di concentrazione riesce a esprimersi al massimo io credo che invece la propate sia una squadra che più serena e più vengono fuori delle qualità immense perché ci sono dei giocatori che sono veramente di una qualità stratosferica perciò si sono scontrati due squadre così detto questo secondo me la mia squadra oggi ha fatto anche vedere delle belle cose quello che di solito noi non subiamo sono determinate palle gol che se le concedi a giocatori come santana di sabato le noci sono giocatori che ti spaccano e questo è avvenuto poi in definitiva io credo che oggi comunque sia ad abbracciare tutta la squadra da ringraziarla perché mi hanno fatto vincere un campionato stratosferico abbiamo fatto un'impresa tutti quanti assieme con grande sofferenza con grande capacità di sacrificio e oggi non conta niente il risultato oggi conta comunque quello che abbiamo fatto nel campionato che l'abbiamo vinto noi sappiamo e lo sanno tutti perché mi sono reso conto che la gente lo sa cosa vuol dire vincere un campionato di serie d e andare nei professionisti perché mi sono reso conto ne avevo vinto altri avevo vinto la seconda categoria l'eccellenza la promozione e non era mai successo quello che sta succedendo adesso quindi mi rendo conto che aver vinto questo campionato è una cosa importantissima e quindi devo ringraziare i miei ragazzi questo possiamo anche leggerlo come un assaggio di quello che sarà il prossimo anno nella serie c certo certo ma questo è assolutamente vero quello che dici questa è una squadra che ha elementi che da quanto ne so io non ho rifiutato qualche squadra di serie c per giocare nella propatria quindi qua ci sono tempi di gioco e qualità di alto livello e noi oggi ci siamo un po' confrontati con questo pur non essendo noi stessi al cento per cento perché noi stessi al cento per cento abbiamo una qualità di concentrazione di attenzione molto più alta di quella che abbiamo messo in campo data dal fattore energie nervose ok importanza della partita noi abbiamo coltivato questa caratteristica questo questa qualità ci abbiamo lavorato durante le settimane ci abbiamo lavorato la domenica era era una cosa naturale non avercela o che piano piano scendesse un pochettino e oggi succede che giochi contro la propatria le prime due palle che gli arrivano fanno due gol noi abbiamo avuto due stesse palle identica loro identica e l'abbiamo messa fuori poi quando vai su 2 a 0 contro queste squadre qua mettici tutto l'impegno che vuoi insomma dai un'ultima domanda è il futuro di mister fossati non lo so non lo so io mi auguro che il futuro sia sempre con l'albissola ne sarei molto felice appena la società che si sta impegnando sta lavorando davvero tanto la famiglia colla gli avvocati e tutto l'albissola si sta veramente dando grande da fare io lo so ne sono consapevole come ho sempre detto all'inizio io sono una conseguenza di quello che ora loro faranno io credo che una volta che sistemeranno il discorso segreteria direttore sportivo campo sportivo dove potremo allora si passerà a quello che è l'aspetto tecnico oggi sono ancora concentrati su quello che è l'aspetto organizzativo della società grazie 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 a tutti.